...in spiaggia, velocemente in forma, indossando il costume che teniamo chiuso nel cassetto, quasi avessimo paura di tirarlo fuori perché sappiamo che non riusciremo ad entrarci dentro, sappiamo che guardandoci allo specchio non saremmo soddisfatti del nostro corpo, del nostro fisico, magari perché abbiamo mangiato un po' troppo durante la stagione invernale, magari perché abbiamo avuto dei problemi, magari perché abbiamo avuto una gravidanza e quindi ci ha lasciato dei segni, ha lasciato dei segni sul nostro corpo, dei segni che noi dobbiamo assolutamente cancellare, come e come e soprattutto in che modo e come velocemente con il vibromassaggiatore, un attrezzo per la ginnastica passiva che voi conoscete, un attrezzo oramai che è sul mercato da anni, che ha riscosso successo perché se no chiaramente non sarebbe ancora proponibile in televisione, un attrezzo tramite il quale voi riuscirete a dimagrire localmente, quindi dove vorrete, dove ne avete bisogno, dove avete accumulato grasso, dove avete la cellulite, dove avete la pancia e qui voglio tirar dentro, consentitemi questa espressione, i signori uomini, perché noi donne abbiamo il problema della cellulite, i fianchi, le natiche eccetera, ma gli uomini che magari sono costretti a stare tutto il giorno in macchina, magari dietro una scrivania, hanno problemi di pancia, hanno problemi di stomaco, quindi noi con questo vibromassaggiatore andiamo a intervenire su tutta la famiglia, questo è molto importante, quindi con una minima spesa, perché vi voglio subito dire il prezzo, 350 mila lire oggi per questo stupendo, miracoloso, lasciatemelo dire, vibromassaggiatore, solo per oggi a 350 mila lire per dimagrire e per stare bene, questa è la doppia fascia terapeutica, quella che vi permetterà di alleviare i vostri dolori, il dolore della schiena, la cervicale, chiaramente la fascia lombare, la fascia renale, per le persone che stanno sedute, per le persone che tornano a casa dopo una giornata di lavoro e vorrebbero tanto avere un massaggiatore, eccolo, con 350 mila lire voi riuscite a dimagrire, voi riuscite a stare bene, voi riuscite sempre tramite la doppia fascia terapeutica, lo vedete come lavora, a rassodare il seno e quindi dicevo un attimo prima, se avete avuto problemi, una gravidanza, l'allattamento che vi ha lasciato questi segni o se magari avete fatto una dieta che vi ha fatto calare dove non volevate e che vi ha lasciato prive di elasticità, prive di tono, guardate come lavora il nostro incrocio, la nostra fascia terapeutica, come rassoda il seno, come vi farà, come risolverà i vostri problemi, naturalmente di mal di schiena e di dolori alla cervicale, eccetera, allora guardate anche sui piedi, quante volte avremmo desiderato tornando a casa un pediluve, naturalmente dopo seguito da un massaggio partendo dalla pianta dei piedi fino al collo, questo è quello che noi otteniamo con il vibro massaggiatore, ma vorrei un attimino riportare magari tra un attimo, guardate, facciamo un primo piano qui, guardate, parlavo un attimo fa di dolori alla cervicale che tutti abbiamo, perché magari abbiamo ormai una certa età o perché magari siamo giovani ma corriamo in motorino, corriamo in moto, prendiamo anche facendo sport, prendiamo dei colpi di freddo, guardate come agisce, guardate proprio un massaggio di una mano esperta, però voi questo vibro massaggiatore l'avete a casa vostra, quindi lo potete fare quando volete, quindi naturalmente queste 350 mila lire si fermano qui, voglio dire voi non dovete uscire di casa, non dovete andare dall'estetista a farvi massaggiare, non dovete fare assolutamente niente, soprattutto non dovete continuare a spendere quattrini, perché è questo vibro massaggiatore che userete voi, che userà vostro marito, che userà vostro figlio, che userà, non so, vostra suocera, davvero per tutta la famiglia. Allora andiamo avanti, abbiamo visto la fascia doppia terapeutica e stiamo vedendo queste maniglie, queste maniglie dei faticanti che prima di tutto usate davvero per pochissimo tempo, vi allenteranno, manderanno via la tensione che avete accumulato durante il giorno, durante la giornata lavorativa, magari perché qualcuno vi ha fatto arrabbiare, eccetera, ma soprattutto, e andiamo a vedere come lavorano, andranno a tonificare questo che è un appunto sul quale, perché io insisto sempre che si pensa sempre alla cellulita, al gas, eccetera, ma voi avete mai visto quanto tradiscono i segni del tempo, i segni delle tale braccia? Guardate allora come agisce, partendo dalla spalla e tonificando, rassodando tutto il braccio. Andiamo avanti, allarghiamo il campo, lasciamo su queste maniglie, io vorrei farvi vedere come lavora in maniera doppia il vibromassaggiatore. Allora, il vibromassaggiatore, io dicevo per tutta la famiglia, pensate che può essere usato addirittura da due persone contemporaneamente. Quindi, magari ci potete anche fare una chiacchierata, magari vi potete seguire, il vostro programma preferito, voi riuscirete o ad usarli in questo modo, quindi con un doppio effetto, quindi con una fascia che agirà su tutta quella che è la zona, i fianchi, i glutei, i panci, l'interno del sternocoscia, andremo a parlare adesso di questa ulteriore fascia e naturalmente con l'azione di defaticamento e anche di rassodamento delle braccia, o lo potrete, allarghiamo il campo, usare in due persone, lo vedete? Eccolo qua, lo stiamo usando in questo momento io e la nostra ragazza, lo stiamo usando in due, quindi davvero un attrezzo che servirà a tutti e per tutti.